sono luisa mi piace molto venire al museo di villa dei cedri perché è un po come ritrovarsi e perdersi in un labirinto di bellezza mi piace perdermi nelle stanze della villa e nel giardino segreto è come un'isola lontana dal caos della città e dalla folla un posto dove posso riflettere trovare delle risposte alle mie domande un posto dove rilassarmi e ritrovarmi è un momento di vero benessere anche se a volte la vita mi raggiunge troppo in fretta forse dovrei dormire qua stasera